E ci siamo, finale, 3.023 appunti, ragazzi, femminile. Adesso è Rebecca Papirio davanti per la GP Mobili Cantù con Frida Barbagallo. Adesso è stata sopravvanzata da Alba Giannasca quando è suonata la campana al prossimo passaggio. Primi punti, grande strappo, Alba Giannasca con Papirio in seconda posizione. Punti al passaggio. Punti, 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 punti. 144, 5, 140, 1, 4, 4, 5, 4, 0. Punti per Alba Giannasca, 2, Rebecca Papirio, 1. Adesso è l'età dello skating roma che va a sprintare per i punti di meno 9. 471, 35, 4, 7, 1, 3, 5. Vanno a punti anche Camilla Cattaneo e Rachele Dolce. Adesso prova, prova Fatima Pogliacomi. Viene un attimo, problema lì, una caduta in curva che ha coinvolto. forse la sua atleta della Groner Team. 5, 4, 1, 35 intanto. 5, 4, 1, 35. Altri punti, primi punti per Alfredo Barbagallo. Sfortunatissima Fatima. qui ha provato a portarsi davanti, ma siamo ai punti di meno 7. 5, 4, 1, 35. 5, 4, 1, 3, 5. Ci sono 4 punti, Alfredo Barbagallo. Sono 3 per Rachele Dolce. Adesso per vie esterne. Riparte l'atleta dello skating ross con una volata. C'è Ginevra Gazzola all'esterno. Rachele Dolce all'interno. 35, 257. 35, 2, 5, 7. Primo punto per Ginevra Gazzola. È salita a 5, Rachele. Ci sono 4, quelli di Frida Barbagallo fino a questo momento. con adesso una azione da parte di due atleti che si presentano sul punti di meno 5. 137, 5, 4, 0. È un altro punto per Rebecca Papirio. E due, i primi due, per Giada Caldarelli con la maglia di Lidia che adesso prova a proseguire nell'azione quando mancano 4 giri. C'è Giada Caldarelli. 125, 137. Mubundi per Castelnuovo e 1 per Giada Caldarelli. sono ancora 5, quindi Rachele Dolce. Ma c'è, l'azione continua, l'azione delle due ragazze quando mancano 4 giri. 137, 35. 1, 3, 7, 3, 5. È un altro punto importantissimo per Rachele Dolce. Adesso sono in 4. Sono in 4. e parte per Viglie Esterne insieme a Frida Barbagallo. Vediamo se è lei al passaggio. E infatti è lei. 5, 4, 1. 35. Due punti per Frida Barbagallo, 1 per Rachele Dolce. E qui è un'azione, l'abbiamo già vista, impegnata in questo tipo di azioni radicali. Frida Barbagallo, quando alla campana dell'ultimo giro, va a prendersi altri due punti. 541, 137. Un altro punto per Giada Caldarelli. Ma Frida Barbagallo davanti. Adesso andrà a prendersi probabilmente 3 punti. Vediamo come imposta molto bene la curva. Sembra ancora in spinta Frida. Frida Barbagallo. Grande azione. A, meno 3. 541. 257, 35. E adesso andiamo a contare i punti. E adesso andiamo a contare i punti.